Un'intera giornata che Varese dedica all'amore per l'arte, protagonisti i bambini attesi domenica 2 aprile in tre location, liceo musicale, salone stense, scuola Morandi. Quindi musica, poesia, cinema, teatro, danza, fotografia e chi più ne ha più ne metta per passare una giornata tutti insieme a provare, a fare, a disfare e a giocare con l'arte. Fondazione Ascoli collabora ancora una volta con il liceo Malipiero, cortefici di un attesissimo musical pronto a mettere a disposizione aule, strumenti e primi passi nel mondo delle melodie. Quindi i bambini possono provare gli strumenti e eventualmente valutare la possibilità di iscriversi ai nostri corsi. Gran finale in Sala Montanari con un coro di voci bianche e a margine uno spazio dedicato ai genitori. Riusciamo a prendere anche i genitori e a fare con loro qualche momento di riflessione e di formazione reciproca.